Oggi parliamo di invertebrati. Gli invertebrati sono la maggioranza degli animali sulla terra. Non hanno lo scheletro interno e quindi non hanno le ossa. Gli invertebrati si dividono in quattro gruppi, ovvero vermi, molluschi, insetti e ragni. Gli invertebrati sono piccoli e si nascondono facilmente. Si adattano a tutti gli ambienti e infatti vivono nella terra, nell'acqua e anche nell'aria. Gli invertebrati si riproducono molto velocemente. Gli invertebrati più facili e più comuni da vedere sono la lumaca, il lombrico, la cozza, il vero, il polipo, gli insetti e i ragni. Quindi le cose più importanti da ricordare degli invertebrati sono il fatto che sono la maggioranza degli animali sulla terra che si dividono in quattro gruppi, vermi, molluschi, insetti e ragni che sono piccoli e che vivono sulla terra, nell'acqua e nell'aria. Ora andiamo a vedere delle immagini di invertebrati. Qui vediamo la lumaca, il lombrico e il verme che vivono nella terra, la cozza, il polipo e la spugna che vivono nell'acqua, il bruco che poi diventa farfalla, il ragno e la vespa che vivono nell'aria.